Il 28esimo ma con 10 punti da recuperare, 9 sono pochi, bisogna fare un garone eh Mattia dai Partito bellissimo Partito con lo stesso tempo, con lo stesso passo di Paris Ah no! Si stende i reti Uh che botta! Botta Che botta, dritto sulle reti No, che sfortunia, ha incrociato le punte, questa è sfortuna, sfortuna, sfortuna Ah Speriamo non sia nulla di grave, l'airbag è scoppiato Si è rimasto giù più che altro dalla delusione, poi lì c'è l'insaccata proprio, è andato dritto con gli sci Eh si, guarda che sfortuna, mamma mia Eh lì ti fermi in mezzo centimetro, lì sei comunque a 100 km orari Fermarsi così è una gran bella botta, speriamo non sia nulla di grave Sembra No ma lui è una roccia È abbastanza a posto, ricordiamo che lui ha avuto un problema alla caviglia, forse è quella che gli dà un po' più fastidio, ma speriamo sia solo una botta Chiede subito i bastancini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti